Sono troppo carico, cazzo Benvenuti a tutti buoni risarci e benvenuti in questo nuovo video della vanilla Siamo nel 108esimo episodio E io ogni volta che devo dire l'episodio che siamo sopra uno del 100 Dico cazzo ma quanti bisogno fare? Comunque ragazzi oggi siamo qui per fare un qualcosa di speciale Ma prima che inizi il video come al solito vi invito a lasciare un mi piace Superiamo per questo video i 5.000 mi piace So che ce la possiamo fare E una cosa molto importante Molto importante Che domani dopo domani sarà un malpensa fiere Quindi se venite portatemi tutto quello che avete dato che venite insieme Ma come posso portarti le cose che voglio guardarmi? Domani è un buona buona cosa per portarmi quello che volete Comunque oggi Dopo aver sprecato tutte le forze in quest'intro Faremo una cosa molto speciale Ciao Nike Tu come stai? Io presumo tutto bene Ciao 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 Nike Di sicuro ti riporterò nella serie Giuro è che se facciamo le esplorazioni lunghe poi è un casino Comunque ragazzi oggi a parte gli scherzi Facciamo qualcosa di davvero figo Ovvero Questi qua sono i Totem of Undying Ovvero che se li tenete in mano non vi fanno morire Ho deciso perciò di creare un Un tempio Non so come dovete chiamarlo Un mausoleo Un non lo so Dove custodieremo queste tre Dove custodieremo queste tre cose E lo chiameremo il tempio della vita o della morte Devo ancora decidere bene dove farlo Perché non è facile Vediamo se ce la faccio Ok si mi sono salvato Perfetto Vorrei farlo addirittura tipo qua Qualcosa tipo questa zona qui mi piace un botto Se no qui ci sono le Swampland Ed è davvero figo farlo da questa parte È davvero molto figo fare un tempio Tipo mezzo rotto o qualcosa del genere Qui secondo me ci starebbe davvero un botto Qui ci starebbe davvero un botto O qua Lo so che è lontano da casa Però comunque ci sta a fare qualcosa lontani da casa Perché sennò poi È un po' un casino O lo facciamo qua raga O sto provando a pensare un attimo Dove potremmo farlo Devo pensarci Vediamo un po' Vediamo un po' Forse qua sopra Qua sopra abbiamo Potremmo anche farlo qua sopra Però qua c'è già Vladimir Quindi Vediamo se Vladimir sta bene Non è morto Può essere che sia morto raga Non vorrei dire No è ancora vivo Ciao Vladimir È vero che c'è la name tag Quindi non morirà mai Comunque Rido troppo Ci potrebbe stare anche farlo o qua sopra Tipo qua Qua Oppure comunque nelle swample A me piace un pochino di più nelle swample Quindi adesso Adesso dobbiamo fare una cosa molto importante Non ho aperto l'elytra Dobbiamo fare una cosa molto importante Questa cosa molto importante Ovvero prendere la moss cobblestone La moss cobblestone E anche un po' di vines Per creare la moss cobblestone Insomma queste cose qua Direi di andare qua sopra Boom Eeeh no 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 Devi salvarti Sì ho preso un po' di danno Però questi cazzi Allora questi dovrebbero prendersi così Perfetto Ne dovremmo prendere un po' Credo che bastino in realtà Non so quanti ce ne vogliono Per fare la moss cobblestone E la moss cosa cososa Non credo tantissimi Però boh proviamo Abbiamo circa uno stack Non credo basterà mai uno stack Però boh proviamo andare a vedere Dovrebbe bastare uno stack Ok Facciamo uno stack esatto Riusciamo a fare uno stack esatto Sì Facciamo uno stack esatto Yeah Allora dovrebbe bastare Però Non ne sono sicuro Questo è quello con sick touch No prendiamo quell'altro Questo dovrebbe essere quello normale Sì Dovrebbe essere una cosa del genere Però non so quanti me ne da No non è così Com'è che era Ah ok Uno ce ne da uno Eeeh Pesa Pesa un botto Però mi sa che mossi cobblestone Ne abbiamo già da qualche parte Questa potrebbe essere una cosa Abbastanza buona Quindi vado a vedere un attimino Secondo me qualcosa ne abbiamo Ne sono quasi certi Ah C'è proprio qualcosa con la mossi cobblestone Yeah Allora ne abbiamo esattamente 64 e 64 Perfetto Ah no 64 e 45 scusate Eeeh Dovremmo avere anche della stone Già cotta qua Infatti Prendiamone un po' Prendiamone un po' Dovrebbe bastarci tutta questa roba qui Forse sì Forse no Qua ce n'è Qua ce n'è uno Sì Qua ce n'è uno Anche qua ce n'è uno Quattro stack direi che bastano E dovrebbe funzionare allo stesso modo Una cosa del genere E una cosa E una cosa No così scusatemi Ok si funziona allo stesso modo Perfetto Quindi adesso Troviamoci quel posto che dovevamo usare Dovevamo utilizzare Per fare appunto questo tempio E poi cerchiamo di sbizzarrirci un pochino Sul da farsi Sono quasi certo che Nelle swampland Fa molto più figo Lo so che è lontano Però comunque raga Guardate Basta che ci buttiamo Andiamo su E ciao raga Ciao Ciao proprio Questo molto shali Possiamo andare ad esplorare la zona Molto facilmente Anche se Io sono quasi certo Che Anche qui Non starebbe male Tipo qua Qua sopra non starebbe male Un tempio di roccato Ci potrebbe stare Devo un attimino capire un attimino Se ci potrebbe stare Ho detto ci potrebbe stare 56 volte Ma noi non ce ne frega Cosa ho visto raga Questa deformazione naturale È bellissima Ma va Ma no Che bella raga Che bella E c'è anche un passaggio Che ci porta da questa parte È una figata anomala No raga Queste cose qui sono da utilizzare Per forza Potrebbe anche starci Fare una sorta di storia Dietro a questo tempio Adesso vi faccio vedere un attimino Come lo vorrei fare Qua c'è qualcosa No io ho paura che Ci sia qualcosa che ha lasciato Eren Ho davvero paura di questa cosa E vabbè E vabbè Ok alla fine ho optato per farla Da questa parte Mi piace che c'è già L'altro tempio lì Mi piace già che c'è Vladimir Qua dietro È un pochino più piena la zona Almeno Comunque vi faccio vedere un attimino L'idea di come lo voglio fare Innanzitutto si sale di 4 1 2 3 e 4 Poi andiamo da questa parte Di 6 barra 7 In realtà forse 6 sarebbe meglio O 7 7 meno di male disperi Quindi 1 2 3 4 5 6 7 Ok 1 2 3 4 5 6 e 7 Ok deve essere una cosa abbastanza piccola Ho in mente qualcosa di abbastanza figo Spero che vi possa piacere Non è detto che vi piaccia Perché è una cosa molto molto Ez Molto molto Ez Ragazzi non pensate che sia chissà che cosa Però Diciamo che l'ho studiata abbastanza bene Me la sono immaginata in testa abbastanza bene Adesso Facciamo questa cosa qui Abbiamo bisogno di questo e questo Quindi dobbiamo fare una cosa del genere Tac E tac Tac E tac E Tac E tac E poi bisogna scendere Dobbiamo fare da tutti i lati la stessa cosa Perché poi dobbiamo fare una sorta di forma circolare Per fare il tutto Ok ragazzi ho finito Mi manca solo l'ultimo blocchettino da mettere Poi mi tocca togliere la cobblestone Così poi capite un attimino Come voglio che venga il risultato finale Perfetto Ora l'unica cosa che ci tocca fare È togliere la nostra cobblestone Quindi questo 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 Ok ok basta Basta farci Se no poi li stoni tutti Li stoni Ok Allora facciamo così Ok l'abbiamo tolti tutti praticamente L'idea ragazzi adesso È di farvi un qualcosa di cupola Con una cupola insomma Sopra questo tempio Perché alcuni tempi antichi ragazzi avevano una cupola Adesso è difficile Insomma nel caso se vi trovo un'immagine La prendo Voglio farlo però con la mossi Ehm Stone brick Voi direte Marci perché fai con la mossi stone brick Perché secondo me viene una figata incredibile Adesso piazzo questi qua qua Così magari Mi spona un pochino di Me ne crescono un po' di vines Che a me servono un botto le vines Ok Allora Mettiamo la stone qui No aspetta La stone brick l'abbiamo già fatta Facciamo così E facciamo così Abbiamo 58 pezzi che La vedo dura che bastino Però ci potrebbe anche stare Adesso cosa bisogna fare? Cobblestone sempre in questo caso Si mette la mossi stone brick Cobblestone Cobblestone Questo lo togliamo E cobblestone anche No di qua no Tac e tac E si fa da tutti i lati la stessa cosa Ovvero mettere negli angoli Per creare una specie di scaletta Con appunto la mossi stone brick Vedete che viene una figata incredibile Mi piace un botto anche Il fatto di avere queste cose così Mi piace tantissimo Comunque adesso Prendiamo la stessa cosa E lo facciamo in tutti i lati Tanto è una cosa abbastanza semplice da fare Ok ci sono riuscito ragazzi Questo è come dovrebbe essere da fuori Vedete che è fatto proprio in In maniera cupolare Insomma ci sta E cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo fare innanzitutto le entrate Con le cose lì Sciale sciale Vediamo un attimino se Un po' di vines Sono cresciuto Perché mi servono le vines Per fare la mossi Oh si yes Oh yes Stanno crescendo piano piano Sono una buona fonte di cose Crescono davvero molto in fretta ragazzi Questo è da dire eh Questo è veramente da dire Allora cosa voglio fare adesso? Prendiamo la cobblestone normale Eccola qua Abbiamo 64 pezzi E voglio fare il contorno inferiore Quindi in questo caso questa cosa qui Così Ok Molto semplice Aspetta andiamo se riesco a prenderlo quello lì Andiamo se riesco a prenderlo Sì è molto facile Voglio fare così Per dare anche una sorta di dimensionalità Quando la guardiamo davanti Insomma adesso vi faccio vedere Anche cosa voglio Cosa intendo Se io la guardo da questa parte Vedete? Da questa parte è più bello Perché è più Scende un pochino di più Ed è molto figo fidatevi Allora l'entrata La vorrei fare da questa parte appunto Quindi ci sta Facciamo tutti i lati E vediamo un attimino come viene Peraltro ci tengo a ricordare una cosa Che non mi preparo le cose off camera Cose del genere Insomma Cioè me le Diciamo che me le Me le provo in mente Provo a immaginarmi Come vorrei che venisse Però diciamo che tutte le varie cose Anche quelle un pochino più complicate Cerco di pensare prima da solo Poi magari se sono troppo complicate Stile il granaio Le faccio anch'io Non off camera Le faccio anche off camera Le provo a pensare off camera Insomma Però la maggior parte delle cose Sono improvvisate Mentre faccio il video Tipo questa è completamente improvvisata Però mi sta piacendo un botto Come sta venendo Secondo me l'unica cosa che manca Sono un po' di dettagli con le scale Che poi faremo Ci servono un pochino di cose Che adesso ho in mente Come fare Però non sprechiamo queste vines Ragazzi riprendiamocene Riprendiamoci le vines Riprendiamoci le vines Oh qua ce n'erano due Peccato la buttata Vabbè fa niente Allora stessa cosa da questa parte Stessa cosa da questa parte Lì c'era una vines Però fa niente Vai Mettimi cosa lì Ah ah Sì Perfetto Perfetto Guardate un po' E guardate un po' Qui ne ho messi un pochino di troppo Però mi piace tantissimo Come sta venendo È davvero una figata incredibile Allora anche se I veri templi I veri Così Hanno le entrate da tutte le parti Ma come le facciamo Questa è una cosa un pochino più complicata Perché Allora innanzitutto ci serve del legno Per fare una crafting table E qua c'è legno a volontà Io direi di prenderne un pezzettino qua Così non si vede L'abbiamo preso Eccolo qua Ciao ciao legno Come stai tutto bene Oh la Facciamo così Facciamo così Facciamo così E questo lo piazziamo qua sotto Così non sembra nemmeno Che l'albero l'abbiamo distrutto Abbiamo le mossi cobblestone Facciamo un po' di wall Facciamone un po' Ne facciamo 18 Credo che basti Ne avanzino Su questo ancora Sono in dubbio Su come fare effettivamente Una vera e propria entrata Però Diciamo che Magari l'entrata principale La possiamo fare stile così Nel senso Allunghiamo il coso qua Allunghiamo il coso qua E facciamo una cosa del genere Nel senso che Scende Scende così E scende anche qua Perfetto Deve essere proprio fatto A grata Insomma Si entra dalla parte centrale Ok Abbiamo fatto anche questo E abbiamo fatto anche questo Vediamo se mi piace da lontano Vediamo Sì Cavole bellissimo E secondo me questo Da fare da tutte e tre i lati Raga Da tutte e quattro i lati Insomma Molto bello Molto bello Non mi aspettavo che venisse così bene In realtà Quindi facciamolo E vediamo un po' il risultato finale Ok ragazzi ho finito Ora ci tocca solo decorare un po' il tutto E fare diciamo La cosa interna Insomma Dobbiamo anche decorare l'interno Qua era solo un fattore estetico Io adesso vorrei mettere anche dell'acqua intorno Con tipo Tutte delle lily pad Insomma cose del genere Per decorazione Che secondo me ragazzi Ci stanno davvero tantissimo Ora vediamo un attimino Come fare il tutto Perché comunque non è una cosa semplice Volevo addirittura strutturare in due episodi Sta cosa Però mi sembra che stia venendo bene subito Quindi ci sta Allora Mossi stone brick assolutamente Nel centro Quindi il centro è questo qua È questo qua In teoria Sì perfetto Io direi di fare una cosa del genere Poi Le scale non esistono Ovvero di mossi Sto Sto Non mi ricordo Non credo Adesso non voglio dire ma non credo Comunque mettiamo un po' Queste cose qui Così scenderanno su tutto Raga Queste qui scenderanno Tutte 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 Verranno una figata incredibile E lo facciamo coprire tutto Poi Vabbè Diciamo che già come tempio ci sta Qua ci vorrei mettere tipo un beacon Prima o poi Quando riusciremo a battere il Wither Vorrei fare un beacon Non per forza qua Intanto spawnerai Quasa Fra un po' Ormai siamo fissati con stare Quasa Mangiamo un attimino Direi di andare a prendere appunto Del ferro Forse qualcosa qui lo ho sapete Forse qui del ferro ce l'ho Non ho del ferro Delle zappe Delle name tag Ho un po' tutto ma non ho del ferro Power 2 e lure 2 Ah no eh raga c'ho i bucket Ciao Ciao proprio Ma proprio così me lo dici Ma proprio così Ma proprio così con tutta questa Non scienze incredibile Però io devo tornare la stessa casa Perché devo dormire Quindi andiamo a dormire va Ok ho messo un pochino di laghettini in giro E mi piacciono Forse ci vogliono un po' di lilipad Io qua vorrei mettere anche contornato di alberi Ma lo facciamo nel prossimo episodio Qui ovviamente ci saranno i frame Eh con tutte e tre le cose qua della totem of undying E vorremmo trovarne quattro in realtà Magari poi ne troveremo un altro E ci sta Voglio magari creare qualcosa di figo con la redstone Quindi per adesso lasciamo così Per il prossimo episodio consigliatemi voi che cosa usare Perché io ho delle idee ce l'ho in mente Però sarebbe bello anche confrontarsi Guardate quanto è venuto bene questo coso qua Io prima di concludere l'episodio Lascerò passare tipo un po' di tempo Un bel po' di tempo E vediamo un attimino se riesco a far venire fuori Tutte le vines in giro Sarebbe bello anche tipo qua Creare qualcosa di un attimino più lineare Perché se notate qua C'è proprio lo stacco pesante E non è molto bello Qui si potrebbe fare una cosa del genere Guardate già cosa non è più carino E fare tutto il resto da tutte le varie parti Tipo una cosa del genere E una cosa del genere Peraltro le scale si possono usare per decorazione Su tanti Dappertutto ragazzi Dappertutto Però qua personalmente io la metterei qui e qui Vediamo un attimino se si può mettere da qualche altra parte Magari qui si può fare una cosa del genere Si può fare una cosa del genere Insomma qua poi ci sarà Credo un circuito di redstone molto figo Anche se qua Si può fare una cosa del genere ragazzi Guardate Che fa L'interno L'esterno Oddio potremmo fare anche l'esterno Che figo Che figo Ci sta Ci sta ragazzi ci sta Guardate che carino Guardate che figo è È davvero molto bello E qua si potrebbe mettere anche un po' di cose così Tipo tutto un pochino Spac Cioè tutto rotto Non so calpestato Mettetela come volete Vado a prendere un po' di Lillipad Cos'è meno Vediamo un attimino come viene Qua intanto manca dell'acqua eh Qui manca dell'acqua La metto qua E manca anche qua Ah yeh Ok l'abbiamo fatto ovunque Perfetto Mi piace Mi piace come sta venendo Cavolo sono contentissimo di questo mini progetto che mi è venuto in mente proprio prima di registrare Cioè provate a immaginare quando mi è venuto in mente Che bello mi piace Mi piace un bo Ok direi che forse è esagerato Però già che ci sono Prendo già un po' di liane qua Cosa meno ne posso approfittare E mettere nei posti in cui un pochino manca effettivamente Però vediamo un po' Qua ce n'abbiamo un po' Quindi prendiamole Che bello dall'alto Che top È un po' da sistemare effettivamente il sopra Che non mi fa così tanto impazzire Però ci sta Allora io ho preso un po' di lilipade Ho preso anche una cosa Che voi direte ma Ehm Sì Qua chiudiamo Ho preso anche delle foglie Perché le foglie sono sempre una decorazione Ma perché me Perché me Ma perché Perché Eh perché cavolo E allora E ne che dici Allora qua ne ho preso un po' Vorrei riempire per bene tutte le varie cose Qua ne abbiamo un'altra Ok direi Questo lo riempiamo tutto No questo No no Così no Così no Così no Così ok perfetto Mi piace mi piace Adesso abbiamo anche un po' di foglie Le foglie si possono fare tipo intrecciate Tipo qua Che scendono un pochino Insomma Capite un attimino Deve essere una cosa Che è dentro una foresta Che poi dopo La foresta la facciamo Eh non è che non la facciamo Però mi piace un botto Il fatto di mettere tante foglie Un pochino a caso Ok qua intanto ci sono già le liane Che stanno prendendo Guardate che bello Guardate che bello Che bello sta venendo È veramente bello Mi piace un botto Mi piace Allora qua Ehm Non posso far crescere Vabbè qua mettiamo tutto così Mettiamo un pochino tutto così Mettiamola anche un pochino dentro le liane Tanto ne abbiamo già Ehi fammelo Fammi mettere la liana Oh Non me lo fa mettere Ha deciso che non me lo vuole far mettere Perfetto dai Così ci sta Le mettiamo anche fuori da questa parte Che top raga Mi piace davvero tantissimo Lo giuro Mi sta venendo una cosa Che proprio come lo immaginavo Come lo immaginavo prima Sta venendo Sta venendo proprio come lo immaginavo Guardate Che bello Questa ragazza è la nostra opera La mettiamo un attimino con le shaders Per vedere come è venuta Io metterei la CUDA V5 Che è quella più bella secondo me Per fare tipo uno screen o qualcosa del genere Ogni fine episodio facciamo uno screen Cosa meno lo teniamo buono Per tutto quello che dovremmo fare Cioè ragazzi Parliamone Parliamone di quello che è venuto Che bello Non mi lagga neanche Ste shaders Che shaders sono? Sono le CUDA V5 A parte che l'ho pure detto Guardate che bello Questo è il nostro Tempio della vita o della morte Guardate un po' Facciamo lo screen Lo teniamo così Ok Mi piace davvero tantissimo raga Concludiamo l'episodio così ragazzi Mi è piaciuto un sacco farlo Noi siamo anche dentro ragazzi Guardate che bello Ma che bello Ma che bello È venuto davvero molto bene Magari io ne potrei approfittare anche No beh i frame no Voglio fare qualcosa di figo Tipo un qualcosa che scende Tira su una cesta Insomma ho in mente tante tante belle cose Ho in mente tante belle cose Che non vi spoilerò adesso Vedremo di farlo nei prossimi episodi Io spero che il video vi sia piaciuto Sinceramente mi piace anche il fatto Che qua è aperto Mi piace mi piace perché mi piace Comunque niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Il Tempio della vita o della morte Sarà sempre qui ad aspettarci Quando avremo bisogno di lui Ok qua mettiamo un altro pochino Scusate perché qua proprio ci sta un po' Un pochino qua Che bello raga Che bello Sono... Sono felice Spero che vi piaccia Se siete arrivati fino a qua Lasciate un like Sarei contentissimo di avere un buon supporto E nulla ragazzi Bella Aspetta volevo fare l'uscita di scena Che schiacciavo C Si zoomava sul sole Aspetta Ok Bella Ciao Ciao Grazie a tutti.